numero 4 orologio analogico con movimento al quarzo resistente all'acqua quadrante in vetro minerale in acciaio inossidabile bellissimo quadrante turchese l'orologio è resistente all'acqua fino a 30 metri ottima rapporto qualità prezzo se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 3 orologio donna analogico in acciaio con movimento al quarzo resistente all'acqua in vetro minerale e quadrante bianco viene fornito con confezione e garanzia ufficiale di due anni ottimo articolo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 orologio da polso elegante di qualità premium un accessorio perfetto da regalare in linea con le ultime tendenze della moda ottima combinazione tra prestazioni eleganza e stile l'articolo viene fornito in scatola regalo e libretto di garanzia dotato di vetro minerale di quadrante analogico il meccanismo è al quarzo l'orologio è resistente all'acqua la cassa e il cinturino sono in acciaio inossidabile color argento ottima idea regalo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 orologio da donna con cassa rotonda in acciaio inox in finitura oro levigata la struttura è resistente alla pressione dell'acqua il bracciale è in acciaio inox con maglie oro rosa al centro la chiusura è pieghevole a pulsante l'orologio ha un movimento a tre lancette con movimento al quarzo l'articolo è confezionato in scatola regalo michael kors ottimo articolo da regalare per ogni occasione trovi il link di questo articolo in descrizione